Sì, non è cattiva! Oh sì, invece mi fa paura! E il mascio? Si può avere del cibo vero! Questa è una spada! Legno di faggio! È lunga 12 pollici e tre quarti, sufficientemente flessibile! Serve a combattere! Questa è un'altra spada! Crine ed unicorno, 15 pollici e mezzo, rigida! Questa è un'altra spada! Fraffetti! Questa è oggi! Grazie a tutti